Adesso la lezione è sulla preghiera, quindi come possiamo pregare partendo da questo stato che io sento, da questa pesantezza dopo tutte queste domande? Adesso siamo tutti qua in famiglia, quindi ci dobbiamo dire le cose apertamente. Non occorre dire nulla, occorre solo pregare l'uno per l'altro. Quello che stiamo chiedendo qua, certe cose, facciamo le domande non così belle o soavi. Questo è buono, però dopo tutto il conteggio deve essere semplice. Quello che è passato è passato. Ed ora incominciamo una pagina nuova. E non abbiamo niente da dire uno sull'altro. Solo chiedere dal Boré che aiuti gli amici. E così ognuno deve fare per i suoi amici. E allora tutti noi saremo coperti. Come possiamo spiegare questo ai nuovi amici qui? Piano piano, è scritto anche negli articoli di Rabash. Abbiamo parlato di questo tantissimo. Io non ho più niente da dire. Solo pregare per gli altri. Questa è l'azione pulita, buona e più utile, l'unica che abbiamo la forza di fare. Chiedere dal Boré per gli amici.